I percorsi per l'Europa passano anche da Omegna, sembra quasi una battuta, così non è. 1200 anni dopo Carlo Manno, per la storia ricordiamo che era lo zio del grande Carlo Magno, si riscoprono queste strade, un po' come il cammino di Santiago e di Compostella, in chiave però nuova e moderna, anche se i percorsi restano sempre quelli di un tempo. Perché questo progetto che è destinato a diventare, e auguriamoci ad essere approvato, con il progetto Interreg? Soprattutto perché c'è bisogno di una storia che possa coinvolgere il turista, che possa attrarre il turista dall'estero, e questa storia che coinvolge un re, anzi due re Carlo Manno, Pipino il Breve, che coinvolge un santo europeo, tutti personaggi molto noti in Europa, può fare la differenza. Questo cammino sappiamo che c'era con certezza, perché conosciamo le proprietà dell'abbazia di Disentis, dei Grigioni, e dell'abbazia di Sangallo, che si trovavano sul nostro territorio, quindi sappiamo che i monaci dovevano forzatamente sportarsi dall'abbazia alle loro proprietà, quindi il cammino c'era sicuramente. Questa storia, che questo cammino sia stato percorso da Carlo Manno, e le teorie che possono esserci dietro, cioè il fatto che fosse una sorta di cammino per i messi, per le spie, per gli eserciti, perché a questo servivano le abbazie, le proprietà delle abbazie. Sicuramente è una curiosità molto interessante. È un cammino fisico questo, però soprattutto a questo punto ci sembra di capire dal suo studio che è un cammino soprattutto nella storia. È un cammino nella storia perché tutti i nostri paesi, vedremo tutti i paesi toccati da questo cammino, hanno qualcosa da raccontare. Hanno splendide storie, leggende e monumenti. Non sembra, uno dice, sono paesini piccoli, paesini dell'Ossola piuttosto che del Novarese. Tutti hanno storie da raccontare, tutti hanno qualcosa da offrire al turista, tutti hanno un'ottima gastronomia che nasce dal passato e tutto questo sarà offerto in un pacchetto che dovrebbe fare effettivamente attrarre il turismo slow che ci auguriamo. In questo caso dunque, Assessore, le strade d'Europa passano da Omegna? Certo, siamo uno snodo fondamentale in questo caso. Sulle tracce di Carlo Manno e Omegna noi abbiamo la fortuna e la voglia e il caso anche di essere qui per essere capofie di una parte di progetto, la parte italiana di questo Interreg e pensiamo che la prospettiva sia veramente una prospettiva convincente.